Qui come un pazzo, pazzo di azzurro e di mare. E pazzo di azzurro, di mare, di mille campanili, di campi di grano, Sal Da Vinci, che canta la sua bella Italia contro il coronavirus. Sal, tramite le sue dirette social, crea un ponte virtuale tra l'Italia e gli States, insieme al professore Antonio Giordano, oncologo di fama mondiale, ricercatore e direttore dello sbarro Istituto di Filadelfia, per raccogliere donazioni per l'ospedale Cotugno, vera trincea della lotta al Covid. Appelli risate, momenti di intimità domestica e sorrisi con i suoi vibranti a cappella, Sal dal salotto di casa trascina l'applauso, invia un saluto speciale ai telespettatori di Otto Channel. Cari amici telespettatori di Otto Channel, un abbraccio forte a tutti voi che siete lì davanti alla tv e quindi testimonia il fatto che voi siete a casa. Io resto a casa non è assolutamente uno spot televisivo, non è uno slogan, ma è per proteggere la nostra salute. Il one man show riesce anche dal salotto di casa, dalla piattaforma virtuale, ad arrivare dritto al cuore delle persone con il suo celebre mercante di stelle. Sono ogni sera mercante di stelle e le più belle le regalerò. Tutto passerà, dice Sal, che racconta di aspettare di tornare presto alla vita normale, agli abbracci, alle gioie condivise, alle feste attese, come quella per il Benevento Calcio. Più restiamo a casa e più avremo modo di festeggiare e una delle feste prossime che arriverà è quello di onorare e festeggiare il grande Benevento del Presidente Vigorito e del grande Pippo Inzaghi. Quindi vi prego, restate a casa. Vi voglio bene, vi abbraccio affettosamente. Ciao. Sono ogni sera mercante di stelle ed il cielo mio sei tu.